Pace bene a tutti, bentornati. Oggi, 21 gennaio, ricordiamo Sant'Agnese. Ascoltiamo. Agnese nacque nel III secolo a Roma, da genitori cristiani appartenenti ad una illustre famiglia patrizia. La parola Agnese deriva dall'aggettivo greco agnos, cioè pura, casta e probabilmente è una parola che venne utilizzata per evidenziare le qualità della ragazza. Da giovane consacrò la sua verginità al Signore. Giunta all'età di 12 anni, molti furono i pretendenti che la chiesero in sposa per la sua bellezza e per le sue ricchezze. Ella si rifiutava, dicendo che ad un altro uomo più ricco e più forte aveva dato il suo cuore. Questi suoi rifiuti insospettirono. Fu denunciata, venne esposta nuda al circo agonale nei pressi dell'attuale piazza Navona. Un uomo che cercò di avvicinarla cadde morto prima di poterla sfiorare e altrettanto miracolosamente risorse per intercessione della Santa. Il giudice, invaguito di lei, cercò di dissuaderla in ogni modo per farle rinunciare alla fede in Cristo. Ma Agnese perseverò. Allora venne condotta in un luogo di prostituzione dove venne esposta nuda. Condannata a morte per la sua forte fede ed il suo innato pudore all'età di 13 anni, venne gettata prima nel fuoco che si estinse per le sue preghiere e poi trafitta con un colpo di spada la gola, nel modo in cui si uccidevano gli agnellini. Per questo, nell'iconografia, è raffigurata spesso con una pecorella o un agnello, simboli del candore e del sacrificio. Il martirio risalirebbe al 21 gennaio. Il suo corpo fu sepolto vicino a Roma sulla via Nomentana. Il cranio della Santa Martire venne poi traslato da Papa Leone XIII nella chiesa sorta presumibilmente dove un tempo Agnese venne esposta nel postribolo, la chiesa di Sant'Agnese in Agone. Sant'Agnese era nobile, faceva parte della classe nobile della società romana, la classe dei patrizi, la chiamiamo con questo nome. E non era solo nobile, era anche bella, eccezionalmente bella. Tant'è che riceveva molte, molte proposte per il matrimonio, ma le rifiutava tutte. Allora inizia ad accendersi un sospetto. Perché questi rifiuti? Si scopre che è cristiana e che vuole consacrare la propria vita. Da questo punto inizierà per lei una dura persecuzione e la sua bellezza, la sua purezza saranno proprio al centro di questa persecuzione perché saranno le virtù, le virtù più insidiate. Il maligno si accanirà su queste sue virtù. Allora mi viene automaticamente da pensare a tutte le persone belle, belle di aspetto, che hanno questo grande dono che è un talento vero e proprio, un talento paragonabile come essere bravi musicisti, bravi scrittori, bravi poeti, è un talento grandissimo. Un talento che però ha un'insidia, quella che la bellezza possa diventare qualcosa da mercato e quindi essere più inclinata alla soddisfazione delle persone piuttosto che alla testimonianza e alla lode del creatore stesso. Che cosa succede allora? Che queste persone belle corrono un pericolo, soprattutto nella nostra società, le belle donne. Allora vogliamo pregare per loro e vogliamo affidarle alla protezione di Sant'Agnese affinché riescano a custodire il pudore e riescano a ottenere il massimo da questo talento che è la testimonianza della bellezza di Dio, poi sostanzialmente. Anche Padre Pio era molto, molto, a volte severo con le sue figlie spirituali per quanto riguardava anche il loro modo di vestire e il loro pudore. Infatti invitava sempre al pudore e non era raro che le rimproverasse in maniera anche molto, molto decisa. Per esempio invitava le sue figlie spirituali a vestirsi come piace agli angeli, piuttosto come piace agli angeli e come piace al creatore, piuttosto che come piace all'uomo e piuttosto che come piace alla moda, che spesso la moda non porta a Dio e alla contemplazione del corpo in una maniera disinteressata e pura. E una fonte di pericolo vedeva Padre Pio in questo, per questo era abbastanza severo. Allora affidiamoci tutti all'intercessione di Sant'Agnese affinché possiamo essere più carichi di questo pudore e questo rispetto dei corpi nella valorizzazione della bellezza quella vera. Sant'Agnese prega per noi.